Io ho immensa stima per Gattuso come calciatore e come allenatore, da tifoso a volte parlo da tifoso e quando ieri sull'1-0 al novantesimo l'allenatore della Lazio ha fatto tre cambi con tre uomini freschi e noi non abbiamo fatto manco un cambio nonostante ci stessero pressando da 20 minuti ho parlato da tifoso, poi è il migliore allenatore che il Milan possa avere, diciamo che magari con qualche cambio sarebbe finita in maniera diversa. Permesso, permesso, ragazzi sono sotto sequestro, ancora quei suoceri cognati, porta pazienza, è il cugino, è ancora, ma chiariscila con lui, posso parlare con i cittadini per favore? Occio alle pozze, occio alle pozze!